Dobbiamo essere prima autorizzati a poter partire e poi vi diremo tutto di quello che c'è da dire in questo momento. Noi anche da oggi potremmo partire, aspettiamo un incontro con i commissari per essere autorizzati. Ci rivedremo anche nei prossimi giorni, tra domani e dopo domani. Insomma è un mio amico, si dispiace per quello che sta avvenendo da lì, ma non c'è stato mai un ragionamento dal punto di vista di direttore. Io mi rendo conto che in questo momento c'è una sfiducia, c'è tutto, però pensiamo al bene comune, a salvaguardare l'Avellino. Forse non siamo in questo momento le persone adatte, ma è l'unico modo per iniziare. Certamente ci saranno i commissari che valuteranno se è congruo a qualsiasi offerta. Spero, spero in questo momento e concludo ragazzi, che è a cuore di tutti il bene dello sport avillinese. Sicuramente di questi tifosi sì, però mi auguro che sia nel cuore di tutti. Grazie.